telegiornale regionale per sordi. Torturato, picchiato, vessato, violentato dai compagni di Cella, due uomini con un curriculum criminale di primo piano. I fatti risalgono al gennaio 2020. La vittima, un italiano all'epoca 31enne, fu rinchiuso nel carcere della Dogaia a Prato per scontare un cumulo di pena per piccoli reati. I suoi aguzzini, uno coetaneo e l'altro qualche anno più grande, sono stati rinviati a giudizio dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Prato. Nel processo, che si aprirà a gennaio, devono rispondere di tortura aggravata, violenza di gruppo e lesioni. Decisive nell'inchiesta, le testimonianze degli altri detenuti e le perizie che hanno confermato i racconti della vittima. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per presunti maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico dei genitori di un bambino di 8 anni, di origine cinese, che nei giorni scorsi è stato notato arrivare a scuola con lividi e graffi su volto e braccia. La maestra del piccolo si è accorta delle tumefazioni e dopo alcune reticenze il bambino le avrebbe parlato di presunti maltrattamenti da parte dei genitori. L'insegnante ha così chiamato le forze dell'ordine e il piccolo è stato trasportato in ospedale. Della vicenda è stata informata anche la Procura minorile di Firenze ed è stato attivato il Codice Rosso dedicato alle violenze domestiche e contro le donne. Il bambino è stato allontanato dalla famiglia e si trova ora in una struttura protetta. Denunciati dalla Polizia di Stato due uomini di 31 e 29 anni nel Senese coltivavano marijuana in un deposito nelle campagne di Murlo con tanto di serra attrezzata con irrigazione e lampade di calore. Entrambi sono residenti nella zona. Tutto il materiale è stato sequestrato. Un ride notturno con spaccate in vari negozi lungo la passeggiata di Viareggio. Sostanziosi i danni alle varie attività dalle quali sono stati rubati fondi di cassa, telefonini e tablet. Un analogo ride nelle settimane scorse era stato compiuto sulla passeggiata del Lido di Camaiore. Quello di Prato è il carcere con meno agenti di polizia penitenziaria in rapporto al numero di detenuti anche psichiatrici, anche assegnati da altre strutture dopo essersi resi protagonisti di disordine e collocati a Prato se arrestati a Pistoia e presto anche ad Arezzo. Una situazione a cui l'organico di polizia penitenziaria in servizio non può più far fronte. È l'ennesima denuncia, quella che arriva in queste ore dalla funzione pubblica CGL di categoria dopo che alla casa circondariale hanno fatto tappa i rappresentanti nazionali del sindacato. Non è solo la carenza di organico a finire nel mirino del sindacato. Da un punto di vista strutturale e funzionale il carcere mostra tutti i suoi anni e i suoi limiti. Un esempio, le scale di emergenza che servono ai detenuti di media sicurezza sono inagibili da anni. Oltre 600 marescialli dei carabinieri della Scuola di Firenze hanno giurato stamani davanti a quasi 4.000 familiari arrivati nel capoluogo toscano da tutti gli angoli d'Italia. Un evento solenne che si ripete ogni anno con rinnovata ritualità a celebrare i valori fondamentali dell'arma. Alla presenza del maresciallo Giuseppe Giangrande, che è medaglia d'oro al valore civile, è stata data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valore militare concessa nel 1999 al luogotenente Marco Coira, al quale è intitolato il decimo corso. Abbiamo tanti progetti da portare avanti con la nuova Scuola dei Carabinieri e con il comandante abbiamo messo a punto un progetto di collaborazione per l'utilizzo degli impianti sportivi che si stanno realizzando qui. Sono impianti molto grandi, non solo lo stadio di atletica, ma anche le palestre che ovviamente saranno utilizzate prima di tutto dall'arma e poi dalla cittadinanza. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, proprio in occasione della cerimonia di giuramento dei marescialli dei carabinieri. In 92, tra sopravvissuti ed eredi delle vittime dell'eccidio nazista di Sant'Anna di Stazzema, hanno deciso di agire in giudizio contro la Germania per il risarcimento dei danni morali quantificati in 118 milioni di euro. Una causa finalizzata in caso di vittoria a poter accedere al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuta in danni di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, che è stato istituito, questo fondo, con un decreto legge del 2022. Ho il dovere, ma anche il piacere, di riportare per il mio tramite il ringraziamento di Roberto Benigni a tutti i cittadini castiglionesi. Lo ha riferito il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, sui suoi canali social, per estendere le parole di ringraziamento dopo gli auguri fatti online all'attore regista per il suo settantesimo compleanno proprio dal suo paese. Benigni, infatti, è nato a Manciano la Misericordia, una frazione del comune della Valdichiana Aretina. Tra incredulità e stupore, nella giornata di ieri, ha scritto oggi il sindaco, ho ricevuto la telefonata di Roberto Benigni, che aveva preso degli auguri che gli avevo rivolto via social giovedì scorso, con il mio invito aperto a ritornare nella città dove è nato. Vediamo adesso il meteo per la giornata di domani. Sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse sulla costa e locali foschie o nebbie mattutine. Venti deboli variabili. Mari calmi o poco mossi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo, ma ancora sopra la norma. È tutto, grazie per averci seguito. Buonasera.